E tu, di che talento sei? Questa la domanda e l'esortazione rivolta a bambini e bambine che lega il filo conduttore della diciannovesima edizione delle Paese dei Balocchi che torna a Bellocchi di Fano dal 17 al 20 di agosto. Un'edizione che come di consueto sarà aperta dalla consegna della fascia tricolore al sindaco del Paese dei Balocchi. Dopo Luca Barbarossa quest'anno sarà il turno di Pino Insegno che salirà sul palco come protagonista dell'appuntamento inaugurale giovedì 17 agosto alle 21.15. Il 17 agosto io sarò io il nuovo sindaco del Paese dei Balocchi, Pino Insegno, il sottoscritto, e staremo insieme, piccoli, grandi, medi, passeremo delle belle ore insieme. Vi abbraccio tutti e non vedo l'ora. Ciao. Diciannovesima edizione che il presidente del Paese dei Balocchi Michele Brocchini ha presentato oggi alla Mediateca Montanari e che vedrà ospite anche il giornalista Luca Pagliari durante il venerdì sera di una rassegna che come sempre metterà al centro laboratori creativi e ludici, giochi di ruole da tavolo e ancora teatro, musica, danza e la ludoteca itinerante. Il tutto accompagnato sempre da grande attenzione ad ambiente, sostenibilità e mangiare sano.